Musica Celebrato questa mattina nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia Extra, il funerale di Monsignor Guido Piccoli, sacerdote diocesano e missionario con Boniano. Il prossimo 20 di agosto inizierà a Rimini la 43esima edizione del Meeting, l'appuntamento avrà per tema Una passione per l'uomo. A questa edizione sarà come consuetudine una delegazione di veronesi che saranno coinvolti in particolare in due delle mostre allestite per l'occasione. Prosegue anche durante il mese di agosto il progetto Job Gym indirizzato ai giovani under 35 per affrontare e dare risposte a temi legati tra gli altri all'inserimento nel mondo del lavoro. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione curata dalla redazione veronese di Telepace. Come sentivate dai titoli, apriamo con il funerale che è stato celebrato questa mattina nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia Extra, il funerale di Monsignor Guido Piccoli, sacerdote diocesano e missionario con Boniano. Un uomo di Dio sempre dalla parte dei poveri. Vediamo il servizio. Una vita, un ministero speso per Dio e per il prossimo sempre dalla parte dei poveri. Si potrebbe riassumere così la vita di Monsignor Guido Piccoli, sacerdote per oltre 71 anni, di cui 41 come missionario con Boniano. Una vocazione la sua nata alla sequela di Cristo e del Comboni, una scelta di vita, quella di fare il missionario che lo ha portato dopo l'ordinazione sacerdotale nel 1951, prima in Portogallo e poi in Brasile, a San Paolo, dove è rimasto per ben 40 anni. Nel ricordare la figura di Don Guido, Monsignor Zenti, che ha presieduto il funerale, ha voluto ricordare alla sorella del defunto, la signora Bianca, il tanto bene compiuto dal fratello, vissuto a lungo in una vita impegnata a fare il bene. Siamo qui a celebrare le sequie per Monsignor Guido. Abbiamo la sua vara qui davanti, la sua salma nella vara, ma ovviamente non possiamo pensare proprio nella fede che tutto si risolva lì, in una vara. C'è qualche cosa che sfugge sempre all'occhio umano. Lì non c'è Don Guido, lì c'è la sua salma, i suoi resti mortali, ma noi vogliamo pensare a Don Guido, l'abbraccio di Dio, con i nostri cari che già ci hanno preceduti, nel giorno a pieno sole, quello che diciamo è il paradiso, che lui possa vivere tra le braccia di Dio per sempre. Cambiamo decisamente argomento. La regione del Veneto, anzi la giunta della regione Veneto, ha aggiornato il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Un piano che, ha spiegato l'assessore all'ambiente regionale, ha portato già ottimi risultati. Ora, in prospettiva del 2030, si punta a consolidare ulteriormente tali risultati, innanzitutto portando la raccolta differenziata all'84% e quindi anche la riduzione del rifiuto urbano non differenziato, però capite entro gli 80 kg per abitante all'anno. Si farà tutto questo senza la necessità, dicono da Venezia, di aprire una nuova discarica, nessun ulteriore termovalorizzatori e nessun incremento di potenzialità degli estesi rispetto a quanto già autorizzato oggi. Il prossimo 20 agosto, passiamo ad un'altra notizia, inizierà a Rimini la 43esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'appuntamento avrà per tema Una passione per l'uomo e a questa edizione, come tradizione, ci sarà una delegazione di veronesi che tra l'altro saranno coinvolti in due mostre allestite per l'occasione. Ce ne parla nel servizio Giacomo Biancardi. Un appuntamento divenuto consuetudine, consolidato nel corso degli anni. Parliamo del Meeting di Rimini, giunto alla sua 43esima edizione, che inizierà il prossimo 20 agosto. Come ogni anno, numerosa la schiera di volontari che contribuiranno a far sì che la macchina organizzativa possa procedere come da programma. Anche Verona proporrà il proprio contributo, in particolare nell'organizzazione di due mostre. Il tema scelto per quest'anno è Una passione per l'uomo. Il tema è dato da una frase di un Giussani, Una passione per l'uomo. È una frase che Giussani pronunciò proprio al Meeting nell'85. Il Meeting è sempre nuovo, è sempre un avvenimento, qualcosa di anche inspiegabile, perché la cosa migliore è invitare direttamente le persone a Rimini. Con tutto questo, il Meeting offre per una settimana, dal 20 al 25 agosto, una serie di incontri, tavole rotonde, mostre, concerti estremamente interessanti che toccano tutti i temi dell'attualità. Tengo a sottolineare che si tratta proprio di un'aria che si respira al Meeting, quindi fatta di tantissimi volontari che permettono la realizzazione di questo evento. Ecco, questo è un aspetto sicuramente interessante del Meeting. Tanti volontari ogni anno, da ogni angolo d'Italia, arrivano a migliaia per far sì, ognuno con il proprio ruolo, che tutto quanto abbia uno svolgimento come previsto. Anche quest'anno, da Verona, ci sarà un contributo importante. Sì, sicuramente ci sono due mostre che mi è caro segnalare. Una dedicata al magistrato Rosario Libattino, che è stato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato l'anno scorso, il cosiddetto giudice ragazzino, ucciso dalla mafia, a cui è intitolata una grande mostra che rievoca tutta la sua storia, l'appartenenza, la formazione, l'azione cattolica. Verrà esposto anche una reliquia molto particolare, cioè la camicia che indossava, ancora con macchie di sangue. Quindi un esempio di un laico cristiano. Ecco, questa mostra è organizzata dalla LAF, che è un'organizzazione giuridica, di cui fanno parte anche degli avvocati, degli amici veronesi. L'altra mostra molto importante viene allestita per il quarantesimo anniversario di Famiglie per l'Accoglienza, che è un'associazione di famiglie adottive, affidatarie, ma non solo, che si prodiga nell'accoglienza di tutte le persone deboli o svantaggiate all'insegna della gratuità. E anche questa è organizzata con il contributo di alcuni veronesi. Si terrà questo venerdì il secondo dei tre appuntamenti musicali in programma nelle sale dell'esposizione di Carotto nel Palazzo della Gran Guardia. L'iniziativa è rivolta ai visitatori della mostra ed è un'opportunità per unire il piacere estetico della pittura con quello della musica. Un appuntamento particolare offerto dai musei civici in collaborazione con la società Amici della Musica. Venerdì 12 si esibiranno Lucia Campagnari al violino ed Elena Zavarise al flauto con brani di Telemann e Mozart. Il terzo e ultimo appuntamento sarà poi venerdì 26 agosto con alcune suite di Bach suonate dal violoncellista Felipe Leon Rojas. Tutte le esibizioni, lo ricordo, avranno inizio alle 17.30. Per maggiori informazioni potete andare a visitare il sito dei musei civici. Ed ora un'altra notizia prosegue anche in questo mese di agosto un progetto particolare. Si chiama Job Gym, è indirizzato ai giovani under 35 e serve per affrontare e dare le risposte a tutti quei temi oggi più che mai importanti che riguardano l'inserimento nel mondo del lavoro. Vediamo. Prosegue anche durante il mese di agosto l'attività del progetto Job Gym. In queste giornate una postazione mobile, un apegar di colore giallo con il personale incaricato è disponibile in vari punti della città a giorni e orari differenti. È un'iniziativa questa che si inserisce in un contesto progettuale ampio destinato ai giovani. In particolare vuole offrire risposte per meglio orientarsi nel futuro inserimento del mondo del lavoro. È una specie di sportello informativo, sportello lavoro, che gira per tutti quelli che sono i quartieri della città di Verona per dare una mano, incontrare i ragazzi su qualsiasi perplessità in ambito lavorativo o anche solo che vogliano immettersi nel mondo del lavoro e anche capire in che modo fare ricerca. Quindi noi sostanzialmente li sosteniamo in quella che è la ricerca del lavoro e le informazioni riguardanti le opportunità presenti sul territorio. È attivo anche nel mese di agosto, questo progetto è partito ufficialmente nel giugno dell'anno scorso e siamo in giro più o meno settimanalmente. Per potervi approcciare si può prendere appuntamento oppure vedere dal calendario che viene proposto anche per esempio dal sito del Comune, delle giorni e delle zone orarie in cui siete. Esattamente, c'è un calendario dove ci sono i giorni, le date e i luoghi dove siamo presenti ed è presente sia sul sito del Comune di Verona, quindi Job Gym e Comune di Verona oppure anche sul sito dell'ente capofila del progetto che è Lavoro Società, quindi Job Gym, chiocciola Lavoro Società, è la mail di riferimento.com. Diceva che questo è un progetto che si inserisce in un contesto più ampio. La prerogativa di questo progetto è quella di colmare il gap, quindi il ponte che c'è tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro perché molto spesso giovani nel mondo del lavoro non hanno quelle competenze che vengono richieste però magari ne hanno delle altre e quindi dicevo prima che questa è la parte di un progetto più ampio perché tramite gli enti partner di questo progetto si organizzano anche dei corsi di formazione in ambiti specifici e in particolare sulle professionalità più richieste nel futuro. Ad oggi quanti ragazzi si sono avvicinati a questo vostro sportello? Ad oggi sono avvicinati circa una settantina di ragazzi. Un'ultima notizia per quanto riguarda il nostro Tg, a partire da questa sera alle 19 a Verona sarà tempo di vida per le strade della città, infatti ci sarà il carro degli attori del teatro scientifico e del teatro laboratorio. Si tratta di un melange di canzoni che parlano di rinascita e quindi di ritorno alla vita così come spiega la direttrice artistica di questa bellissima iniziativa Isabella Caserta, attrice e regista anima dell'esperienza itinerante insieme ad Elisa Lombardi, Valerio Mauro e Andrea Cortellazzo. Dicevo si comincia proprio questa sera in Via Roma poi si continua domani in Piazza Erbe e infine si conclude giovedì 11 in Piazza Saval. E con questa annotazione andiamo a chiudere il nostro Tg. Un grazie per averci seguito e un arrivederci. A presto. Grazie.